Alcune domande a coach Mauro Seno e il coach della Serie C del Leoncino per la stagione 2024 e 2025. Ciao coach, ogni stagione rappresenta una nuova sfida ed un'opportunità per crescere. Quali sono le aspettative e gli obiettivi per questo nuovo campionato di Serie C? Buonasera a tutti, questo è il mio quinto anno a Leoncino. Io all'anno da 40 anni e l'obiettivo è sempre stato lo stesso, è stato quello di aiutare i giovani nella loro crescita umana e logicamente nella crescita tecnica. Il fatto che quest'anno la società, nella persona del Presidente Vendramini, mi abbia affidato la guida della prima squadra non discosta molto dall'obiettivo, essendo una squadra molto giovane, quindi quello di aiutare questi ragazzi nel loro continuo percorso formativo e logicamente essendo un campionato dove ci si gioca la permanenza in categoria, essendo un gruppo molto giovane, cercare di mantenere la categoria. A proposito dei nostri giovani, quali valori e atteggiamenti cerchi di instillare in loro per prepararli a questa sfida? Io ho sempre considerato la palestra una scuola di vita, i valori sono gli stessi che da genitore ho cercato di insegnare a mio figlio, quindi l'impegno su ogni cosa che si fa, l'apprendizione del lavoro, la serietà e soprattutto capire che essendo uno sport di squadra, vince la squadra o perde la squadra. È un gioco dove aiutare il compagno vale più di un'azione personale, di conseguenza è ciò che pretendo, più che pretendo, è ciò che desidero che i ragazzi capiscono e cerchino di attuare quotidianamente nel lavoro in palestra. Il campionato di Serie C sappiamo essere un campionato molto impegnativo, però noi come società ci teniamo a farlo con i nostri giovani in quanto è il compimento del percorso del settore giovanile. Come pensi di affrontare le difficoltà che ci troveremo davanti? Questa è una delle poche società del territorio che crede nei giovani. Con i giovani ci vuole la giusta pazienza perché maturino. Di conseguenza mi permette, mi dà la serenità di lavorare in modo tranquillo e questa tranquillità i ragazzi la sentono e la fanno propria. Quanto è importante il ruolo del tuo staff tecnico nel lavoro in palestra? Nel motto Leoni si è creato da subito un grande feeling. È fondamentale che nello staff tecnico ci si confronti quotidianamente e assieme si cercano di risolvere gli eventuali problemi che durante gli allenamenti quotidianamente si presentano. Si è creato un grande feeling. Bene Mauro, grazie per il tempo che ci hai dedicato all'intervista. Adesso testa al campionato che comincia sabato. A nome della società, un grosso imbucco al lupo a te, al tuo staff e a tutti i nostri ragazzi. Un grazie a voi. Viva il lupo, insieme a Leoni.